Era diventato il cane di tutti gli amanti degli animali. I migliaia, grazie ai social network, avevano seguito la sua incredibile storia e sperato nel lieto fine. Ma Pato, il bulldog francese, tornato a casa ad Arezzo grazie al microchip dopo anni di lontananza, è morto martedì scorso per problemi ai reni. Pato scomparve da casa tre anni fa. I suoi proprietari, una famiglia a retina, lo avevano cercato per anni, con l'aiuto di volontari da tutta Italia, affittando un'apevela con una sua gigantografia ed addirittura offrendo una ricompensa per chi lo avesse ritrovato. Tutti tentativi che non portarono però a nessun risultato. Poi nel maggio scorso, finalmente l'happy ending, Pato viene ritrovato a Napoli. Un ragazzo lo aveva visto mentre dormiva su un materasso e attraverso l'ASL era riuscito a trovare ai proprietari. I primi segnali di malessere però si manifestarono subito dopo il suo ritorno a casa. I tre anni per strada l'avevano debilitato e fatto ammalare. I problemi renali lo hanno sfiancato e martedì a Pisa, mentre era sottoposto a dialisi in una struttura specializzata, si è spento. Una storia che ha dell'incredibile, fatta di amore ma soprattutto di speranza, quella dei suoi proprietari e delle tantissime persone che non hanno mai smesso di cercarlo.